Chiariamo una cosa, chiariamo una cosa. Molti pensano che lei sia milanese, perché ha sempre cantato canzoni milanese. Invece io so che lei è torinese, piemontese. Piemontese, nata da Alessandro. Ecco, ma perché non ha mai cantato queste canzoni piemontese? Perché io sono nata al teatro a Milano e sono diventata cittadina adottiva di Milano. E ho sempre cantato in milanese. E in milanese cosa canta? Questa sera canterò una canzone di un giovane autore, Ivan Della Mea, intitolata Acque l'homme, che vuol dire Acque l'uomo, dedicata a Elio Vittorini. Prego. Acque l'uomo, che incontravi di notte, in via alburissia, sura i navini, sull'asfalto della strada, con l'uomo, che veniva sull'asfalto della strada, con la faccia, un po' gialla e stranida, e con tigliocci, un po' strac, un po' smort, acque l'uomo, ma tessere tu no, quater strac, un po' d'ombra e nient'alte. No Giuseppe, no Giuseppe, no Giuseppe, no Giuseppe, non Cavalte, e non Cadesse, mi conosce il tuo nome, a quel l'uomo, a quel toc de silenzi, a la notte, e anche all'uveri dì, in via alburissia, che sumide per me, e su no, se stiropga in un senso, la, 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 la...